sentiamo qual è il primato di simone aggubbio buongiorno simone buongiorno ciao ciao bonigli ben ritrovati grazie caro grazie simone è un piacere allora allora ho un triste primato credo è credo di fratture costali cioè delle tostole esatto esatto poi marco scoperte una cosa è l'esperienza che il nome scientifico vero è coste diciamo la vulgata li chiama costole però il nome è costo solo che fa un po' macelleria cosa quante volte ti sei rotto le coste ho un'infinità di referti dove c'è scritto sempre coste al momento è la quattordicesima ma giochi a rugby che fai no il problema è proprio questo che non è che faccio rugby o arti marziali gioca a calcio e me ne sono rotte quasi tutte giocando a calcio sui è un trequartista quindi mi marcavano stretto insomma però ultimamente ma le sto rompendo anche in modi banali esempio ecco c'è la leggenda metropolitana che uno stannuto poderoso tipo euro si può rompere la costola è vero è vero contatto di referti simone però scusami una curiosità ma quante costole c'ha un essere umano perché allora io ho rotto la c'è per acetti ma lo rotte ben tre volte ah beh quindi hai fatto delle repliche sai qual è la cosa strana è che in teoria il calcio dovrebbe rafforzare le ossa invece grazie al calcio te ne rompi forse è l'unica forse è l'unica simone in bocca al lupo fai attenzione figlio mio sentiamo